Il Romanticismo è un grande movimento intellettuale, artistico, letterario, musicale, con forti risvolti filosofici. Come datazione viene fatto iniziare tra il 1770 al 1780 e terminare nel 1830 o con la primavera dei popoli del 1848, è un periodo segnato dalle grandi rivoluzioni democratiche come quella francese, ma anche dalla nascita dei nazionalismi. Infatti il Romanticismo rappresenta una forte reazione all'illuminismo, all'razionalismo, al classicismo nell'arte, all'industrializzazione in Inghilterra, così come al laicismo nella Francia post-rivoluzionaria e alla rivoluzione proveniente dall'esterno in Germania. Il Romanticismo quindi presenta una fortissima ambiguità di fondo tra elementi progressivi o progressisti ed elementi invece conservatori o reazionari. Per esempio il concetto fondamentale della libera espressione di sé, della libertà delle proprie emozioni porta tanto alla libertà di parola e alla democrazia, la partecipazione del popolo alla politica, ma anche a un forte irrazionalismo, fideismo e diffidenza nei confronti della ragione. Così come la forte attenzione per la natura, un vero e proprio naturalismo, porta anche a tendenze ruraliste antiscientifiche e anti-industriali. O ancora, l'individualismo romantico porta sostegno al liberalismo e al costituzionalismo di quell'epoca, ma anche come eroismo che sfida le convenzioni sociali a un vero e proprio titanismo, indifferente nei confronti delle masse. E allo stesso modo, il cristianesimo che anima il romanticismo ed è spesso un cristianesimo insofferente delle gerarchie e dei dogmi, rimanda però anche a un forte medievalismo di fondo che sfocia nel passatismo e nella formazione di una vera e propria scuola storiografica romantica fortemente nazionalista. O ancora, a questo nazionalismo concorrono anche lo studio della cultura popolare, del folklore, l'attenzione finalmente per le manifestazioni culturali provenienti dal popolo e non più soltanto dall'élite, arrivando quindi a una concezione politica che è divitrice tanto agli studi filologici e folclorici di Johann Gottfried Herder e ai loro risvolti in termini di formazione di un nazionalismo su base etnoculturale, quanto al concetto di volontà generale di Jean-Jacques Rousseau con il suo portato antielitario ma anche protototalitario per alcuni aspetti. E in generale, ma soprattutto dal nostro punto di vista, quello filosofico, il romanticismo più importante è sicuramente quello tedesco, perché la Germania in questo periodo è un paese fondamentale sul piano letterario, musicale, scientifico, filosofico. Politicamente parlando poi abbiamo un sentimento di ribellione presso gli stati tedeschi e anche i liberali e democratici tedeschi verso il dominio dell'Austria, il dominio della Prussia, che poi però sfocerà nella ribellione contro Napoleone, quindi al fianco di queste due potenze di lingua e cultura tedesca. E la prima manifestazione del romanticismo tedesco, negli anni 70 del Settecento, è il movimento chiamato Sturm und Drang, cioè Tempesta e Impeto, al quale appartengono in particolare due pensatori molto importanti. Uno, abbiamo già menzionato, è Johann Gottfried Herder, letterato, filologo, poeta, fautore di un nazionalismo liberale, antiassolutista e antiprussiano. L'altro, invece, Johann Georg Amann, filosofo che porta avanti una critica della ragione disincarnata, una forte attenzione alla fede in Dio e soprattutto il rapporto alla filosofia kantiana propone il linguaggio come ponte effettivo tra il fenomeno e il numeno, cioè tra la realtà così come appare e la cosa in sé che può essere pensata. Ad ogni modo, il romanticismo tedesco attraversa diverse fasi, anche in relazione a quelli che sono gli eventi storici contemporanei. A partire dal primo romanticismo, o romanticismo di Iena, tra il 1798 e il 1804, che prende il nome da questa cittadina della Turingia, dove si erano concentrati numerosi di questi autori. A partire dallo scrittore Ludwig Tic, poi i fratelli August Wilhelm e Friedrich Schlegel, quest'ultimo linguista, il primo a teorizzare l'esistenza di una famiglia indoeuropea, ma poi anche i importantissimi poeti romantici, di Novalis e Ederlin, i filosofi idealisti Fichte e Schelling, che vedremo nel dettaglio altrove, e poi anche Friedrich Schleiermacher, è stato un teologo, un pastore riformato, che è considerato il padre della teologia liberale cristiana, in quanto fautore di un forte individualismo religioso, tra l'altro liberale anche dal punto di vista politico, e fu il fautore dell'unione tra le chiese luterane e le chiese riformate, che avvenne poi nel 1817 e diede origine a una chiesa evangelica tedesca. Negli anni successivi, 1804 e 1809, subentra una seconda fase definita alto romanticismo o romanticismo di Heidelberg, proprio perché è basata su questo centro del sud della Germania, intorno a figure come Achim von Arnim o Clemens Brentano, un fenomeno principalmente letterario, ma nel quale cominciano a emergere tematiche nazionaliste. E infine, dal 1810, ma soprattutto 12 in poi, il cosiddetto romanticismo di Perlino, o tardo romanticismo, in cui il fulcro di questo movimento si sposta nella capitale del regno di Russia, quindi vediamo un'impostazione molto più conservatrice dovuta alla reazione contro l'invasione francese della Germania, la partecipazione al grande movimento nazionalista, il vero e proprio risveglio della nazione tedesca nel 1813 per combattere contro Napoleone e che culminerà poi nella battaglia delle nazioni, la grande battaglia di Leipzig, Lipsia, dove le armate napoleoniche saranno sconfitte. Quindi non dobbiamo stupirci di trovare anche Schlegel, in età più tarda divenuto cattolico e il reazionario, o figure come Ernst Moritz Arndt, o anche i fratelli Wilhelm e Alexander von Humboldt, che, nonostante fossero partiti da un'impostazione piuttosto liberale, si trovano a collaborare in prima persona con lo Stato prussiano, i fratelli Humboldt sono entrambi diplomatici, Wilhelm sottosegretario all'educazione. Lo stesso Fichte, in particolare, in questo periodo pronuncia i discorsi a nazione tedesca, che è un testo fondante del nazionalismo tedesco, nonché lo Stato commerciale chiuso in cui sosteneva posizioni economiche fortemente protezioniste. E infine anche Hegel stesso, nel suo periodo maturo, per il suo sostegno allo Stato prussiano, può essere ascritto a questa corrente dal punto di vista storico. Naturalmente, con la restaurazione, il romanticismo tedesco esaurisce in parte la sua forza propulsiva, anche se resterà una forza cruciale nel portare alla rivoluzione del 1848. E tuttavia, esso coincide in parte con l'idealismo filosofico e ne costituisce un vero e proprio sfondo dal punto di vista storico-culturale.